Allora, lui è in tourne con il World Tip Chop Tour, unica data in Italia qui a Colorado. Signori, è un onore presentarlo, il ballerino di Tip Chop! Grande, grazie! Buonasera! Guardate lo stile inconfondibile! Facciamo entrare anche la compagnia! Di Colorado, Mila e Picole! Braida! Braida! Vai Braida! Oh! Grazie! Grazie! ti prego, ti prego la nausea, non ce la faccio grazie Colorado Village People bravita, ti prego